Signore e signori, salve e benvenuti, ben ritrovati soprattutto qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio, è giunto il momento di parlare del Doctor Strange, del Doctor Strange nel multiverso della follia ad una settimana, più o meno mi sembra, sì una settimana dovrebbe essere dall'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche del Dottore, ne parliamo qui sul canale e ne voglio parlare soprattutto, sapete bene insieme a voi, quindi commentiamo come sempre, fatemi sapere la vostra per quanto riguarda questo film che vi preannuncio insomma, non so se ci saranno degli spoiler, forse no, no non ci saranno degli spoiler, ne parliamo così in maniera molto tranquilla anche per coloro i quali non l'hanno ancora visto, però prima di parlarne vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale ragazzi, è una cosa molto importante, un gesto molto importante, piccolo contributo come dico sempre, che può servire però molto per la crescita del canale, mi raccomando lasciate anche un like ragazzi, commentate, un commento tattico ci sta sempre bene, condividete il video, attivate la campanella e seguitemi anche sui social, in particolar modo su Instagram che è il social che seguo un po' di più. Bene ragazzi, dopo le consuete e solite premesse possiamo addentrarci, che fai non ti addentri nel multiverso della follia? E noi ci addentriamo nel multiverso della follia, non ci incischiamo mica come direbbe il buon Bonolis, addentriamoci e possiamo subito dire che lo stile, la firma di Sam Raimi si vede, si vede e come in questo film del dottore, nel multiverso della follia, perché avvertiamo subito, sin dalle battute iniziali ma anche poi nel proseguire del film, quello che è un qualcosa di inedito, un qualcosa di mai visto comunque, o che si è visto ben poche volte, io non ricordo magari bene tutti i frame di tutti i film Marvel, ma posso dire che la brutalità, comunque il sangue, la violenza, sono presenti in Doctor Strange e sono presenti grazie appunto a Sam Raimi, perché quella punta di horror barra splatter comunque è presente e ci fa piacere, perché nonostante questa patina family friendly che inevitabilmente hanno i prodotti Marvel, comunque si sentiva un po' la mancanza di un qualcosa in più, di un qualcosa di più adulto, mettiamola così, e fortunatamente il buon Sam Raimi sia con questa componente come dicevo prima splatter, che anche con la volontà di immergerci subito in medias res nel film, quindi di andare subito al sodo dell'azione e proiettarci in maniera vorticosa all'interno degli eventi, il che si sposa bene proprio con il concetto di follia e multiverso della follia, rende quindi questo film, è stato detto anarchico, è una definizione che può calzare bene, perché effettivamente sia per tutta questa serie di motivi che vi ho detto, per lo stile di Sam Raimi, per questo voler accentuare anche l'aspetto della follia, della frenesia, Doctor Strange è un multiverso della follia per l'appunto, è un viaggio vorticoso, come ho detto poco fa, un viaggio molto frenetico, fatto di continue altalene, sali e scendi, che effettivamente può sembrare un po' anche, come può stordire un po' il pubblico pagante insomma all'interno delle sale cinematografiche, però è anche l'anima e quello che è l'intento di questo film, che già dal titolo per l'appunto si mette già le mani avanti, e dice questo sarà comunque un viaggio folle, per cui allacciate le cinture, tenetevi forte, che comunque sia un po' di giramenti di testa, potrete sicuramente averli. Detto questo ragazzi, il titolo calza non solo per la frenesia delle immagini e degli eventi a cui comunque assistiamo, ma anche perché la follia e anche, come dire, il passaggio da uno stato mentale anche all'altro fa parte dei protagonisti di questo film, fa parte del Doctor Strange che è sempre molto combattuto sul da farsi e combattuto anche su quello che lui avrebbe voluto che fosse la sua esistenza, in questo sommarsi di multiversi, lui vede e pensa a quelle che potevano essere le sue alternative di vita, soprattutto di vita amorosa, come insomma poi si può ben vedere anche nel film. E dall'altra parte ragazzi abbiamo l'antagonista del film, abbiamo Scarlet Witch, interpretata da Elisabeth Olsen, H. Vanda Maximoff, che ha un vortice ancora più burrascoso di pensieri, lei è attaccata molto a questo concetto di famiglia che non può avere ma che vede comunque in tutte le altre versioni di se stessa all'interno del multiverso per cui gli scatta la follia, gli scatta la pazzia e diventa quindi l'antagonista principale del film e soprattutto direi che è antagonista perché effettivamente è lei che incarna un po' tutte quelle situazioni, quelle componenti che ho detto prima della violenza, dell'horror, dello splatter, proprio i suoi comportamenti e quelle che sono le sue azioni portano a tutta una serie di conseguenze violente e nefaste per quanto riguarda l'intero multiverso. Quindi la follia, fra virgolette, non è soltanto della vastità e quindi della confusione che generano i vari piani del multiverso ma è anche una componente dei personaggi, dei protagonisti di Doctor Strange e anche di Vanda Maximoff di Scarlet Witch. Ed è questa la cosa interessante, ovvero vedere come i due personaggi viaggino su binari paralleli con il Doctor Strange che cerca di mantenere la propria moralità e la propria etica nonostante venga, come dire, tentato, fra virgolette, o comunque venga confuso da quelle che sono le versioni alternative di se stesso e da tutti i personaggi che comunque incontra nei vari, appunto, piani del multiverso e che comunque inizialmente hanno poca fiducia in quello che potrà essere il suo operato, dall'altra parte, appunto, su questo binario parallelo invece abbiamo Vanda Maximoff abbiamo Scarlet Witch che abbraccia totalmente il lato oscuro della forza mi verrebbe da dire questa follia che cresce in sé una follia però nata da un sentimento di amore che non può accogliere nel suo cuore e che quindi poi diventa odio, diventa questa pazzia che cresce poi di minuto in minuto. Per il resto, ragazzi, che cosa dire? Questo è un film che magari per coloro i quali, ecco, non hanno, non apprezzano troppo i film Marvel potrebbe essere un motivo per andare al cinema a dare una seconda chance perché, come dicevo prima, lo stile di Sam Raimi è evidente seppure non possa essere predominante e accerchiante rispetto a quella che è la patina e la filosofia di base dei film Marvel, del Marvel Cinematic Universe però si avverte, insomma, la differenza, quel pizzico appunto di qualità diversa rispetto al solito per cui sono convinto che comunque sia questo potrebbe essere un film che anche per coloro i quali non hanno apprezzato i precedenti film del mondo Marvel può essere, diciamo, un motivo per dare una seconda chance, ecco, all'universo cinematografico Marvel e per il resto, che cosa dire, ragazzi? La firma di Sam Raimi si vede per un film dove la follia viaggia su diversi piani e non solo del multiverso ma anche sui piani mentali, diciamo così, dei protagonisti per cui, tutto sommato, mi sento di promuovere questo film da appassionato ma anche non solo perché comunque, ecco, ha rappresentato un qualcosa di differente rispetto al canovaccio solito dei Marvel Cinematic Universe pertanto, ragazzi, che dire, aspetto con ansia il vostro parere venite copiosi a commentare qui nel box dei commenti fatemi sapere la vostra e detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo video un saluto a tutti da Spazio